Il punto di forza di questo progetto è il fatto che l'argomento sia fondamentale, quello dell'ambiente, soprattutto in una città come Taranto, il fatto che lo si racconti attraverso questa arte meravigliosa che è il cinema, ma credo che la cosa più importante sia vedere tanti ragazzi, il coinvolgimento delle scuole che hanno dal primo momento partecipato a questo progetto, che sono presenti in questi tre giorni a questo bellissimo festival. Questo grande scenario che la Magna Grecia, sul cui io credo le regioni debbano lavorare, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, hanno insieme delle risorse straordinarie da mettere a valore. Dobbiamo sicuramente cambiare il modo di vedere, di comunicare, di documentare e il cinema incide in maniera straordinaria in tutto questo, in questo processo partecipativo, in questo cambiamento tra la gente, la cittadinanza, la civiltà e tutto quello che riguarda la comunicazione.